ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su little big workshop un gioco veramente rivelazione che ho scoperto da poco su steam perché il gioco consiste nella costruzione di una catena di produzione questa catena di produzione è praticamente situata sulla scrivania su una scrivania insomma il gioco esce il 17 di ottobre purtroppo al momento della registrazione non so ancora dire il prezzo quindi restiamo un pochino sul chi vive e vediamo insomma però comunque trovate poi su steam quando vedrete il video il gioco sarà probabilmente già uscito il bello di questo gioco è che noi gestiremo una catena di produzione sì ma gestiremo anche il modo in cui produrremo la scelta dei metalli i tavoli usati per il lavoro in modo da ottimizzare vari parametri in base a quello che il cliente viene a chiederci comunque noi iniziamo da da laca da capo facciamo la indie ink e vediamo vediamo giusto giusto l'inizio abbiamo superato il tutorial quindi dovrei aver già sbloccato tutto quasi in caso vado a ricaricare l'altra partita sviluppato dai mirage game studios vedete la scrivania dove abbiamo il nostro locale iniziale dove cominciare la partita dove dovremmo superare varie sfide vediamo se il tutorial ce lo da o lo facciamo diciamo da capo e senza salta il tutorial al menu di sistema quindi io direi di saltare il tutorial perfetto abbiamo saltato il tutorial ora abbiamo quello potete vedere abbiamo due operatori uno e due che restano lì inattivi e compenetrano una staccionata ma questo è un altro dettaglio allora in pratica quello che bisogna fare in questo momento è andare a selezionare una zona che piazzeremo qui che è la zona di carico scarico praticamente i camion arriveranno scaricheranno qua così come le merci prodotte verranno portate qui altre cose di cui avevamo bisogno di una sala relax questo serve assolutamente infatti mettiamo una macchinetta del caffè qui che va perché loro diciamo quando sono stanchi se non c'è la sala relax si buttano per terra e vanno a dormire altra cosa di costruzione qua vedete il mercato dove nel mercato andremo a vedere tutta una serie di oggetti costruibili e tra l'altro noto con piacere che gli oggetti che vedete qui sono completamente diversi dagli oggetti che abbiamo visto che ho visto io nella nel tutorial tutorial che poi finiva e cominciava questa questa modalità di gioco qui quindi insomma bello bello il fatto che ci sia questo vabbè in questo punto ordiniamo la macchinetta del caffè vedrete che adesso arriverà il camion lo scaricherà qui e poi i nostri omeni i nostri dipendenti andranno a montarla allora qua vedete che abbiamo i banchi da lavoro di tipo base al momento poi ne sbloccheremo altri abbiamo il postazione di assemblaggio per il legno per il metallo per essere iniezione abbiamo la postazione per cucire la forgia piccola la postazione di verniciatura poi delle utilità tipo degli scaffali per conservare ostacoli per evitare perché diciamo che se non esiste uno scaffale i nostri lavoratori ecco vanno a posizionarli qua fuori perdendo tempo perché ovviamente se abbiamo necessità di rientrare in alcune tempistiche insomma io vado a metterlo qua comunque vediamo allora adesso inizio con una postazione di no direi che la mettiamo di lato questa scusate che continua alla postazione di assemblaggio la vado a mettere qui non so che vabbè assemblaggio lì la ordino intanto vado a prendere la postazione di lavorazione del legno e si infatti volevo metterla qui altra postazione di lavorazione del no non di assemblaggio ma di lavorazione del legno in modo che possiamo lavorare contesto contemporaneamente e su due postazioni ho messo due stazioni di assemblaggio paura vediamo adesso acceleriamo un po il tempo così vi faccio vedere come funziona vedete che loro assemblano solo due lavoratori ma ovviamente potremmo andare a farne altre no fatto giusto ho fatto sbagliato fatto sbagliatissimo fatto no no giusto 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 perfetto perfetto perché quasi c'è il piano ok ok sono un coglione io qua abbiamo la postazione le decorazioni scusate che vanno ad aumentare il riposo dei nostri omini io adesso sto spendendo un po di un po di soldi in modo da creargli una una bella sala relax in modo che possano si possono fare solo all'interno queste si in effetti c'è anche scritto va bene messe le due piante vanno a consegnare ordina e poi iniziamo a lavorare allora in pratica qua non rientra nei confini di una zona si va bene sposta e la mettiamo qua ok si in pratica le zone vengono al momento non c'è una gran rifinitura delle zone posizionabili e in pratica dove mettiamo la prima zona di scarico considera tutto questo come un magazzino quindi vabbè allora iniziamo adesso con la produzione e si viene a ecco questo vedete la prima è la cosa più più interessante allora in pratica abbiamo una sfida dobbiamo produrre tre unità di questi nani questi gnomi di legno io accetto entro il tempo limite ok dobbiamo pianificare come costruire ok infatti qua vedete che abbiamo uno schema poi possiamo andare anche a crearli da zero però insomma quello che dobbiamo fare è creare un un gnomo di legno con un determinato una determinata qualità adesso noi qua possiamo andare e scegliere il tipo di legno nel momento abbiamo solo questo e abbiamo allora in pratica si prende il legno lo si intaglia e si crea il gnomo finito lì qua vedete abbiamo la lavorazione l'intaglio in pratica e per farlo dobbiamo linkare una stazione di lavoro e io il punto questa praticamente quello che è fatto è fatto cioè ho deciso questo progetto avvio e lui inizia e mi produce i tre gnomi di legno inizia la lavorazione quindi arriva la consegna vengono consegnati tre ceppi per i tre gnomi inizia la lavorazione prodotto inizia la lavorazione prodotto e poi inizia un'altra lavorazione e viene prodotto nuovamente abbiamo finito in questo caso avendo finito li possiamo andare a consegnare accetto e ci prendiamo i soldi che poi in realtà sta dando fastidio vabbè consegniamo perfetto si si consegna da lì questa non funziona ancora non so perché comunque vabbè e ci ci studieremo muovi la muovo qua in fondo così almeno non mi scassano vabbè e questo è il nostro datore di lavoro in questo caso e sono venuti a ritirare probabilmente i nostri amini se avranno la possibilità danno una mano al trasportatore ma se ne sbattono perché stanno bevendo il caffè facendo i fatti loro quindi va bene abbiamo consegnato quelli ok adesso andando qua nel mercato non abbiamo più sfide abbiamo dei pezzi che possiamo costruire altri tipo delle mensole o così e direi che questa mensola è fattibile allora le papparelle di gomma no qua in alto potete vedere la produzione di massa progetto piccolo e soprattutto il materiale usato la plastica mi sembra abbastanza un casino qua è legno e metallo oltre che vedere la domanda e la richiesta quindi potrebbe essere qua pagato poco la richiesta in calo quindi direi che potremmo provare a fare questo però non sono sicuro di poter riuscire a fare questo stile qui vabbè intanto iniziamo a costruire un'altra cosa poi vi mostro un po tutti i menu perché quello ho un po sorvolato al momento allora vedete questa la forgia e ci consente di fondare il metallo e ottenere un materiale allora voglio iniziare con qualcosa di semplice senza rischi quindi iniziamo con un rastrello richiesta in calo però pianifica il prodotto in questo caso devo aspettare un attimo perché aspetto che mi montino mi montino la forgia in modo che abbiamo ok perfetto ok andiamo e montiamo il rastrello il rastrello vedete qua lo dobbiamo produrre di un certo tipo di qualità cioè di robustezza e di stile è richiesto uno stile 3 quindi grossolano ma resistente e al momento con i mezzi che abbiamo che comprendono sia i materiali ordinabili che in tavoli da lavoro abbiamo la possibilità di spaziare tra una robustezza 7 e una robustezza 16 poi queste si può muovere si può fare andando in fasi più avanzate di gioco si possono creare dei piani di lavoro per ottimizzare al meglio allora in pratica operazione non impostata usiamo in questo caso possiamo usare il metallo quindi un'asta di metallo rotonda proviamo così vedete che qua si crea la fonderia ma il prodotto finale no direi che il prodotto finale potrebbe essere buono quindi però un rastrello completamente in metallo non lo so potremmo fare una cosa invece diversa tipo cambiare e andare sul legno vedete in questo caso quello che potremmo produrre è comunque una qualità inferiore di quella richiesta quindi direi che è però il bastone ci sta che sia mannaggia e te possiamo scegliere vari tipi di legname legname di qualità lo sblocchiamo con la ricerca cosa che andremo a fare però andando su questo linea un po più pareggiato possiamo ottenere un risultato da 8 a 10 perché dobbiamo ancora selezionare bene tutti i tavoli da lavoro aumentiamo ok e no usando questo metallo grezzo qui questa fonderia otteniamo punta del rastrello ma vedete siamo inferiori assolutamente a sto punto niente andiamo vogliono dei rastrelli robusti e facciamogli dei rastrelli robusti insomma non vedo il problema facciamogli in legno no scusate facciamogli in metallo sono pirla io metallo perfetto fonderia questa ok viene super resistente direi che la produzione va bene ultimo passo abbiamo prodotto l'asta di metallo abbiamo prodotto i denti del rastrello andiamo ad assemblarlo qui quindi a questo punto non abbiamo soddisfatto ancora gli attributi no ma non manca questo tipo di materiale scegliamo questo materiale siamo a posto al momento qua possiamo andare a vedere il pagamento il profitto che abbiamo ovviamente i tempi devono essere ottimizzati perché le persone che lavorano per noi ci costano allora non so quanti dobbiamo produrne perché non ho visto ma produciamo al momento loro si mettono al lavoro e iniziano arrivano le consegne di materiali di metalli iniziano a fonderli nella press nella nella formina producono tutti i denti prima di cui ne abbiamo bisogno in questo caso uno lui dice con quel simbolino col pollice in giù e il simbolo qua del non so come chiamarlo dice che non si trova su agio ok accede al mercato e consegniamo il rastrello vengono lo ritirano e se ne vanno e guadagniamo dei punti a questo punto vi faccio vedere queste i traguardi dobbiamo aggiungere dei traguardi in questo caso consigliamo 100 prodotti soddisfare i trasfidi dei clienti avviare un piano collegato un cartellone e aggiungere livello fabbrica 5 che cos'è un cartellone un cartellone lo sblocchiamo con la ricerca che vi faccio vedere adesso ci consente di unire devo ancora capire bene come funziona più tavoli diciamo per lavorare insieme la ricerca e sviluppo vedete guadagnate andando avanti dei punti di sviluppo e poi vabbè pian piano andremo a sbloccare varie cose se traguardi dobbiamo raggiungere i traguardi bronzo per sbloccare tutto questo in questo caso guadagneremo i cartelloni collegare tra loro più postazioni per facilitarne la gestione qua abbiamo il gestione del deposito quindi sblocca le zone di esportazione le zone per la postazione del lavoro qua abbiamo la lavorazione del legno sblocca macchine di base il lavoro con le macchine molto più efficiente strumenti di costruzione nuovo set di strumenti di costruzione e materiali eco sostenibili praticamente rendendo disponibili ulteriori opzioni e salvando la vita un pari di alberi che non guasta mai poi andremo avanti e potremo ottenere altre cose diciamo anche a livello di economia quindi guadagnerà di più dalle vendite bello che qua poi si può andare a fare cose tipo aumentare il tetto d'assunzioni assumere anche dei volontari quindi non pagarli in questo caso programma di stage quindi aiuto gratis stagisti e così via qua abbiamo i lavoratori e ne possiamo assumere al momento solo di due tipi il quello che fa il corriere in pratica è che porta le merci il trasportatore e il lavoratore proprio avanti potremmo assumerne un sacco di altre tra il super trasportatore e i lavoratori specializzati nei vari materiali qua abbiamo l'inventario dove ci segna tutti i tavoli che noi possediamo al momento le relazioni con i clienti abbiamo prodotto il nano di legno per questo svitato e abbiamo anche altri clienti che ci chiederanno dai robot ai motori quindi le macchine le vespe insomma tutte le varie cose questo per lo sport quindi sono bici cano e così via e questo mobili e l'altro invece roba in legno tipo tamburi bracieri metallo vabbè qua abbiamo la classifica di ferbs ispirato con le società più ricche gli incassi il profitto in questo momento e l'economia e le statistiche che ci permettono di capire quanto stiamo guadagnando fino a questo momento allora possiamo fare un altro ordine e possiamo la mensolina qui vediamo il progetto è questo dobbiamo produrre una resistenza di obiettivo 2 quindi il minimo indispensabile dobbiamo valutarlo anche in previsione dei profitti in questo caso abbiamo dei sostegni in metallo possiamo scegliere vari tipi di metallo questo metallo qui però ci da poca resistenza vediamo 7 8 dobbiamo fare 10 in questo caso aumento perfetto però manca lo stile cioè non è bello da vedere da quanto vedo qui 8 6 no direi non è detto che siamo in grado diciamo di produrlo è perché non mi lascia cambiare il materiale in questo caso qua vedete che possiamo andare a sbloccare materiale di qualità no credo che non possiamo produrlo credo vediamo no forse con questo è un po più bella da vedere infatti infatti operazione non impostata allora abbiamo detto la forza che richiede minima quindi questo non ci serve potenziamo andiamo su questo tipo di materiale qua si dovremmo avercela fatta allora con questo materiale qui lo facciamo proprio bello 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 allora con questo astra di legno adesso poi modelliamo se scegliamo vedete effetto 25 25 scelgo l'altro tavolo in modo che magari se qualcun altro vuole iniziare il primo processo libera il tavolo diciamo l'altro non deve aspettare poi abbiamo assemblano c'è un prodotto l'asse l'hanno piegata e poi l'assemblano ha due assi creano insomma vabbè assemblano queste due assi qua qua invece il taglio del legno va lì e poi l'assemblaggio totale che va fatto qua ok dovremmo aver fatto infatti sei quindi ben oltre le aspettative ben oltre le aspettative però vedete che in questo caso abbiamo un profitto di meno 83 dollari perché non lo so perché abbiamo puntato un po troppo in alto abbiamo fatto un po fuori dal vaso in questo caso se modifichiamo il legname il prodotto va altrettanto bene ma ci sveniamo ancora in questo caso 71 vabbè produciamolo comunque giusto per salire di livello però è una cosa assolutamente anti economica anche abbassando al massimo la qualità del legname devo ancora capire adesso qua come fare con questa ihre cose non ci sono queste zone perché se io li metto se io li metto fijcial� vediamo un po' brutta sta cosa del no 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 sono un pirla perfetto no infatti cercavo anche prima come fare per estendere la zona ma vabbè ce l'avevo fatta intanto non si può mettere in pausa sto gioco no vabbè accedere al mercato vendiamo facciamo esperienza non tanta e poi abbiamo altre cose che che possiamo dare a fare questo caso la plastica però diventa abbastanza complicato da fare questo è una cosa abbastanza agli albori perché non abbiamo uno storico mentre invece qua il prezzo sta salendo di queste cose qui che abbiamo appena fatto però e se puntassimo l'astrello che invece è appunto agli albori vediamo se ce la facciamo vogliono tanta resistenza gli daremo tanta resistenza però bruttissimo da vedere no l'astrello l'abbiamo fatto prima no 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 lascia perdere facciamo no la forca è non è l'astrello infatti infatti allora vediamo metallo di qualità di qualità no ma vabbè non ce n'è bisogno facciamo il legno il legno è bello perfetto dovrebbe già andare bene allora vediamo allora vediamo se bassiamo la qualità si guadagna molto di più sicuramente forgia metalli taglia tutto taglia tutto e assembla tutto perfetto no perché no completa il piano questo materiale ok 91 perché 48 mi dava 91 prima ma probabilmente scusatemi ma la voce è quella che è vabbè 48 non è male o ne produciamo un po dai una decina 854 di profitto intanto li vediamo al lavoro ci guardiamo questa fase da quello che ho visto non mi pare il gioco sarai neri access mi sembra già comunque piuttosto ottimizzato è interessante perché comunque hanno introdotto questa questo foglio diciamo di progettazione che è una cosa piuttosto originale per un gioco del genere anche se in realtà si è già vista in altri giochi di programmazione programmazione intendo quelli con tutti i passaggi dei robot per fargli fare varie cose qua invece si gestisce una linea di produzione sì va beh questo ha deciso di svenuto per la fatica sì però io non vi parlo per dormire vabbè in pratica adesso possiamo andare anche ad assumere un altro lavoratore ci pensiamo 150 al giorno ci costa però almeno non fermiamo la produzione qua vedete il progresso siamo quasi a metà un 47 per cento ne abbiamo perso uno uno è lì ok adesso sono tutti al lavoro vedete che bene o male pur avendo le buttate un po così a caso le fasi lavorative abbiamo ottenuto una buona efficienza siamo al 7 all 80 per cento ecco possiamo andare a vedere in alto lo stato di manutenzione perché tavoli vanno riparati l'effetto dalla stanza se gli da buon umore o meno e gli ostacoli che vanno a bloccare i nostri laboratori credo che come menù abbiamo visto praticamente tutto io spero che finisca presto questo quest'ordine perché non vorrei mi scadesse il tempo intanto si stanno ricaricando le pile dando testate al pavimento ok 9 su 10 e dovremmo già essere a buon punto dovremmo finire l'ultimo adesso si uno sviene si riprende l'altro che andiamo al mercato e vendiamo e otteniamo altri soldi tanti soldi tra l'altro vedete che adesso stiamo consegnando tutto allora ragazzi questo è un inizio un buon inizio di un buon gioco little big workshop ispirato anche carico a little big planet alla fine come concetto di di tavolo di scrivenire su cui si sta giocando anche se in realtà poi è un un gestionale ma una sorta di catena di montaggio sarà da vedere gli unici dubbi che ho ma non credo poi vadano a creare un gioco completamente diverso comunque il fatto di avere tante cose da sbloccare ancora di livello superiore vedete che qua abbiamo solo il base poi ci sarà ci saranno gli altri e anche a livello di progetti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi ciao ciao